Ciao dolci unicorni ed eccoci qui sì in un nuovissimo video Allora lo so, lo so, lo so, in questo periodo ne sto facendo un po' tanti Sia perché comunque ho ripreso comunque la mia vita quindi sto uscendo un pochettino di più E in più perché ci sono sconti ovunque Non siamo in periodo di saldi ma qui i negozi fanno sconti, promozioni, prendi tre, paghi due Prendi tutta la tua famiglia e paghi uno, cioè è una cosa veramente incredibile Quindi vedete qua quante cose abbiamo, quindi mettetevi comodi, prendete il popocorn e iniziamo questo video haul Ed iniziamo subito col botto perché a Hyundai abbiamo deciso di prendere delle novità per la casa Delle novità che secondo me sono veramente bellissime Sto parlando delle nano leaf, quelle luci che cambiano colore, si possono anche unire fra loro Si creano dei disegni stupendi nei muri, col tocco cambiano colore Cioè ragazzi io non vedo l'ora di vederle in azione e penso di metterne alcune anche di lì, lì dietro Oltre poi comunque in alcune stanze o anche nel corridoio della casa Quindi mi raccomando fatemi sapere giù nei commenti dove poter andare a posizionare queste nano leaf Io ho preso praticamente il kit, questo qui il kit base dove ci sono nove nano leaf Ho scelto il quadrato, cioè come forma il quadrato perché c'era anche triangolare Ma il triangolo non mi fa impazzire quindi ho preso il quadrato Perché secondo me si può anche mettere, posizionare meglio e fare anche qualche disegno molto particolare Che farà Andrea, io non farò nulla Ho preso il kit base dove c'è anche il coso per poterlazionare tutto E poi ho preso anche questi qui, gli altri set esterni diciamo non base Con altre nano leaf all'interno Quindi sono in tutto 17, devo posizionare 17 nano leaf Quindi la casa sarà penso super mega hiper illuminata e colorata Soprattutto lì dietro Io ve le straconsiglio perché ho visto veramente un sacco di video sulle nano leaf E me ne sono innamorata Prima di acquistarle ho voluto veramente vedere bene E tutti si trovavano benissimo Quindi fatemi sapere se già avete visto anche qualche video con le nano leaf E soprattutto se le avete provate voi Sono stata da Stradivarius Di solito la Stradivarius non trovo quasi nulla di interessante Ma questa volta quando ho visto questo paio di jeans Sì perché io amo i jeans, lo sapete Sì, amo i jeans alla follia Me ne sono innamorata Perché è un colore di jeans che io al momento attuale non avevo mai visto Non lo so Quindi quando li ho visti me ne sono innamorata È un grigio barra bianco effetto macchiato tipo vernice Quindi adoro Ho preso la 36 perché la mia taglia al momento è la 36 Eye waist, cioè ovvero con vita alta Questi qua sono super vita alta Mi piacciono veramente tanto L'effetto dovrebbe essere bello Posterò magari qualche storia, ve le mostrerò nelle storie E niente, il colore mi ha fatto impazzire E li ho pagati 19,99 Ancora nel cartellino perché li ho presi praticamente oggi E quindi sono freschi freschi di negozio Sempre da Stradivarius ho preso una cosa Che ho detto Ma che cosa carina Mi potrebbero stare bene Chi lo sa Sono dei fermagli che poi alla fine finiscono con questi laccettini Quindi se io mi vado a fare una coda Poi dovrebbero scendere questi laccettini E secondo me sono veramente carini Ho preso questo trittico ecco Azzurro, bianco, nero, grigio Che secondo me è veramente carino Con tutti i cuoricini Quindi mi piacciono Vi farò sapere Magari postarò delle storie Questi li ho pagati 7,99 euro Andiamo avanti perché ho tante, tante, tante cose Allora da Sephora ho preso una nuova palette di Tarte Mi è piaciuta tantissimo Questa qui Ok, veramente molto, molto belle I colori sono spettacolari E oltre a questa palette Mi sono dedicata ai pennelli Ora i pennelli io già li sto utilizzando Perché non potevo aspettare Vi dico la verità Perché se no ho detto Ciao, ne saluti e bacioni Li sto già utilizzando Ma ho conservato le scatole Per farvi vedere i modelli Sono tutti di Fenty Beauty Perché amo i suoi pennelli Ho preso il pennello Questo qui da fondo Quindi per il fondotinta Ho preso questo qui da blush Che io lo utilizzerei E lo utilizzo per il blush Questo qui per le polveri Quindi per la cipria ad esempio Ma anche per il contouring Potrebbe anche essere buono Ma io non lo so fare E poi ho preso questo qua Per gli occhi Che si può anche utilizzare E poi come blend Anche per il correttore Ma di più per gli occhi Mi trovo bene con i prodotti Di Fenty Beauty E quindi questo qui li amo Ho preso anche una crema mani Dell'erbolario Per le mani screpolate Secche Perché in estate Proprio a me capita L'opposto Mi si seccano La qualunque Compresa le labbra Ho preso questo qui All'olio d'oliva Tipo a me mi si sono seccate le labbra Sarà anche la tramontana Sarà l'aria condizionata Ma sto avendo problemi E quindi va bene Mettiamo pure questi Poi sono stata da Kiko Da Kiko ad esempio C'erano mille promozioni Quindi se potete Passate da Kiko E ci sono un sacco di cose Veramente molto 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 carine Stava cadendo tutto Tutto Allora c'era la promo Di prendere tre smalti E pagarne due Allora io cosa ho fatto Ho preso due colorazioni Ovvero queste qua Una e questa che ho tuttora Che è veramente molto molto bella Solo che è perlata Ecco Quindi se non vi piace l'effetto perlato Nada Se vi piace questo è top E poi ho preso questo colore Che è tipo un Non lo so se definirlo Un fragolato Sì Un abbastanza fragolato Questi due colori E poi Gratis Ho preso questo Che è quello che fa praticamente Sette cose in uno Quindi le va a rinforzare Fa il top Fa il coat La base Fa tutto Ed è questo qui Questo qui che c'è scritto così Se vi può interessare L'ho utilizzato Già mi piace Mi fa impazzire Ed è promosso Poi ho preso la classica matita nera Neanche qui A proprio Fare dei Così dettagliati È la classica matita Cajalle Nera di Kiko Io l'adoro Non mi fa Lacrimare gli occhi È un nero spettacolare Cioè Adoro E poi Ho preso questo pennello Che ancora Non ho utilizzato Perché stavo utilizzando Quello lì di Fenty Ed è sempre per Le palette Occhi E questo qui È lo 0 No È il 58 Se vi può interessare Le setole mi piacciono Veramente tanto Sono morbidissime Andiamo avanti Allora Per la mia gioia Ho preso Un'agenda E voi dite Corina Do sta la novità Perché tu prendi sempre Agende Sì Però questa agenda Chi mi segue Almeno da Due anni e mezzo Tre annetti Se la ricorderà Questa agenda Quindi chi mi segue Da tanto tempo Scrivetelo giù nei commenti Se vi ricordate La Saffiano Raspberry Personal Io ce l'avevo Tanti anni fa Tipo tre anni fa La portai sul canale Ho fatto come Decorare l'agenda Sistemare l'agenda E gli stickers E quello e l'altro Solo che dopo anni Mi si era praticamente Sfaldata Tanto che L'avevo dovuta Buttare e cambiare agenda Adesso L'hanno riportata Su Amazon E appena l'ho visto Ho detto Ok ciao La prendo Perché questa per me È stata veramente Amore a prima vista Mi piace Secondo me bellissima Io già l'ho decorata Ora non vi sto qui A farvi vedere nel dettaglio Magari su Instagram Ma su TikTok Se vi interessa O poi chi lo sa Però già ho messo Tutti i divisori L'ho sistemata L'ho già scritta E la vita ragazzi Mi fa tornare in mente Tanti tanti ricordi Per me positivissimi Perché era proprio Nel periodo in cui Io avevo conosciuto Andrea E quindi per me Mi ricorda pure Cioè Ragazzi Che sono romantica Sono stata da Carpisa E ho preso Uno zaino Veramente me l'ha regalata Andrea E mi ha regalato Questo zaino rosa Che io sto utilizzando Tutti i giorni Quindi è già spacchettato Non c'è nulla dentro Ci sono però le mie cose personali All'interno Che veramente Mi piace Tanto 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 È capientissimo Ho un sacco di tasche Cioè guardate Le tasche qui La tasche qui Qua 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 Pure dietro E dentro È fatto così Che ha un'altra tasca Più un'altra tasca Cioè ragazzi Questo zaino è la vita Per l'estate Secondo me Perché ci potete mettere Di tutto e di più E in abbinato Mi ha anche regalato Il portafoglio Il portafoglio Questo qui è veramente Gigantesco Anche se è compatto Ma dentro c'entra Tutto è di più Quindi questo qui ragazzi Veramente Se andate da Carpisa Non era scontato Perché è collezione Nuova Quindi non era scontato Poi Sono stata In erboristeria E ho trovato Della Lepo Questo qui Che è un fondotinta Misto a siero Che in estate Secondo me È perfetto In quanto Non va a seccare la pelle In più Te l'ha idrata Già Anche se non andiamo lì A mettere qualche siero A parte In più la marca Lepo Fa tutte cose Comunque biologiche E al naturale Eco bio E quindi Viva le cose al naturale Poi sono stata Da Giunti Dalla Libreria Giunti E ho trovato Questo qui Io amo L'autore Il creatore Di Piccoli Brividi Lo amo alla foglia Perché ha fatto Dei libri Veramente spettacolari Io sono una fan Di Piccoli Brividi E sono pure fan Di tutti i suoi libri Tutte le sue storie Sto parlando di Stein E io lo amo E Andrea mi ha trovato questo Mi ha detto Oddio guarda C'è quel libro Che è ovvio L'ho preso Si chiama La città degli zombie E altre avventure Ci stanno all'interno Quindi sono tre avventure Che ci sono all'interno Non vedo l'ora Di iniziarlo Io amo i libri Amo leggere E questi qui per me Sono i libri Della vita Cioè Mi piacciono un sacco Poi ho preso Per l'agenda Questi però su Amazon Se posso Mi metti il link di Amazon Di quello che potete trovare Su Amazon Giù in descrizione Che è una raccolta Di stickers Degli animali Guardate che sono Cucciosi Ora non ve li mostro tutti Perché sono pagine e pagine Però Cioè Ragazzi sono la vita Cioè Buon carini Vabbè adoro Vabbè adoro Bellissimi E li ho pagati 7 euro La vita La vita Poi Stiamo per terminare Ho preso Un reggiseno Perché se vi devo dare Dei consigli Ve li voglio dare anche buoni Tipo Ho preso Questo qua Io li compro sempre Da Tezenis Il mio intimo È tutto di Tezenis Perché mi trovo bene In più C'è questa tipologia Di reggiseni Che non hanno il ferretto Io non posso utilizzarli Col ferretto Perché mi danno Un sacco di fastidio Possono anche portare Comunque A cose un po' delicate E quindi Li prendo sempre Senza ferretto Sono veramente morbidissimi Questa linea Si chiama Roma Se non sbaglio Ho preso Questo colore C'ho tutti i colori Mi mancava Il blu assoluto Si chiama La blu assoluto Adoro L'ho preso singolo Quindi è venuto 15,99 Ma se voi lo prendete Tipo in combo Con altre cose Ne pagate due Il prezzo di uno Come sempre Ah è l'ultima cosa L'ultima cosa Regà Molto molto importante La crema viso Che io utilizzavo L'anno scorso in estate L'avevo trovata Ho letto che c'era il dimeticone Quindi ho detto Come è stato possibile Che io l'ho terminata E non mi ha fatto danno Però può capitare Che magari ce n'è in minore quantità E mi sono trovata bene Quindi ho deciso di riprenderla Sto parlando di questa qui Di Collistar Che ve ne avevo parlato tantissimo Su Instagram Anche voi Molti di voi Mi avevate detto Che la conoscevate benissimo Io la amo Perché effetto gel Poi fa un profumo Veramente molto delicato Che non va A dare fastidio al naso E niente La pelle veramente Ve la riporta A nuovo Super mega Iper idratata Penso di avervi fatto vedere tutto Se ho dimenticato qualcosa Al prossimo video Assolutamente Ve lo mostrei Oh di te Non si chiude Ora si è chiusa Mi raccomando Fatemi sapere Dove devo posizionare Le nano leaf Soprattutto se volete Magari Che ne metto più di qui E meno in altre stanze O viceversa Più di là Di là no Perché già c'è il neon Questo qui Che è spettacolare Non lo levo E anche morto Perché è bellissimo Però molto probabilmente Da questo lato qui Niente Io vi mando un grandissimo bacio Come ho mostrato tutto Sì Vi mando un grandissimo bacio Super mega Iper pucciato Mi voglio bene Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragioni Ciao 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 Ciao